Era ora che li facessi fuori E sta nascosto qui da un cazzo di mesi a mangiare pezzi di latta e a bere olio esausto Pensavo fossi stato catturato Sono scappato, testa di bullone E sti zoccoli di merda erano una tale noia Comunque ho piratato una delle console e ho trovato delle informazioni Corrosi mi ha rubato delle ricerche di Exavolt E le sta usando per scoprire il segreto di tutta questa robaccia Morbot In pratica cercano di scoprire dove cazzo sono andati a finire i Morbot Sembra anche che Corrosi stesse usando tutti i nostri minerali del cazzo per costruire una specie di stazione spaziale Secondo che i figli di puttana stanno progettando di tagliare la corda Stazione spaziale? Allora è lì che Vlax cercava di trasmettere la posizione di Droid City E' bravo il nostro cervellone del cazzo Hai trovato il mio cif di energia Morbot? Sono certo che Corrosi lo vuole per entrare nella merdosa terra dei Morbot Siamo 0-2, niente cif e niente zopi Maledizione, quel cane pulcioso del cazzo è inutile quasi quanto te Chi è perso? Ora salta quassù e andiamo a prendere il cif Non posso, è troppo alto È troppo alto, mi è caduta la testa, mi ci è svitato il pistone Voi bot del cazzo avete sempre qualcosa che non va Ok, credo di potermela cavare quassù Vedrò di fare il giro e sbloccare la porta Userò il mio guinzaglio così quelle teste di cazzo si faranno saltare tra di loro Grazie a tutti